Cargiver domande e risposte. Sono previsti bonus o agevolazioni per vacanze in strutture adeguate? Non c'è un bonus vacanze per disabile specifico, ma ogni comune può prevederlo. Vi sono invece agevolazioni per accedere a strutture specifiche, tipo impianti termali, se utili a fini terapeutici e dietro presentazione di specifiche attestazioni e certificati. Grazie a tutti.